L'unico uomo che ci mette sempre il cuore, la faccia, il capitano storico di questa juve, ha pareggiato, ma adesso è uscito un infortunio capitano, capitano che è successo? Mi sono fatto un po' male, cazzo, questa squadra senza dire non è niente, sono proprio scarso, ci vuole l'anima, ci vuole, devi stringere i denti secondo me, mister come è uscito il capitano, mister come è uscito il capitano, non so, un brutto infortunio, quindi non è una scelta tecnica, perché stava dando il cuore, non è un brutto infortunio, allora ci vediamo fra poco, ci dedicano un'altra rete, ci promettono un'altra rete, certo, altre due, chi la dedica la dedico a Matteo di Nolfi, perché è bello, ti l'ho promesso, ti insegnavo, a Matteo? Sì, e anche a Marco!